Buongiorno a tutti ben trovati anche questa mattina eh per una seconda giornata dedicata al nostro Estival Politica Società Cultura dell'Europa Orientale Balcanica. Ehm ieri abbiamo avuto un primo incontro, una prima tavola rotonda dedicata alla Russia, all'Ucraina, alle original dinamiche e e prospettive. È stato molto interessante ehm vi se avrete voglia di riascoltare tutta la registrazione dell'intervento di ieri come quello di quelli che faremo oggi eh li trovate sul sito. Ehm è stata una prima occasione di scambio tra esperti eh studiosi eh di Europa Orientale Balcanica. Ehm oggi abbiamo altre due opportunità altrettanto interessanti di discutere questa volta soprattutto dell'impatto che la guerra eh in Ucraina ha avuto sui Balcani e mh e del tema fondamentale che quello dell'allargamento ehm che in qualche modo è strettamente collegato anche se oggi nella prima parte ci concentreremo sull'impatto della guerra in Ucraina sui Balcani. Ehm ricordo che questa iniziativa è frutto di una collaborazione eh felice tra ehm l'Osservatorio Balcani-Caucaso TransEuropa e tra East Journal, la Scuola di Studi Internazionali che hanno deciso di compromuovere quest'evento, questo festival, questa idea di festeggiare anche se forse non è esattamente l'epoca dei festeggiamenti ehm però con l'idea che nei prossimi anni con uno sguardo al futuro noi cercheremo di continuare a mantenere un'attenzione sulla regione che vorremmo non fosse esclusivamente legata a crisi e a destabilizzazioni ma anche al ad un processo di integrazione europea davvero voluto eh dalle società a cui apparteniamo. Ehm in generale ehm a questa iniziativa collaborano anche mh abbiamo come vedete nel programma di oggi varie iniziative culturali e quindi abbiamo la collaborazione dell'editore Keller che a sua volta è trentino come i tre enti che eh promuovono l'iniziativa eh ma anche di Alpiadira Cinema Trieste Film Festival con cui Osservatorio collabora da tanti anni che ci dà l'occasione anche di avere eh una proiezione cinematografica oltre alla presentazione di un libro e una mostra fotografica eh dell'associazione Fuori Via che vi suggerisco di guardare di sotto nel bellissimo chiostro degli Agostiniani dove ci troviamo che è ehm invece un invito a a camminare a godersi eh i Balcani in questo caso ma in generale eh tutti i paesi di tutto il mondo in un a piedi in un con uno sguardo e una volontà di approfondimento di conoscenza eh come quella che da sempre ispira l'Osservatorio Balcani Cauca o Trans Europa che è proprio quella della costruzione delle relazioni in Europa dal basso tra società civili basate però su una conoscenza approfondita eh con quindi un amore che si trasforma anche in volontà di di conoscenza. Ehm ringrazio quindi tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa ringrazio voi eh che siete presenti e anche quelli che ci seguono da da fuori da remoto visto che i potenti mezzi oggi ci consentono. In realtà noi abbiamo fatto eh conferenze a distanza già da 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 sedici anni direi che che lo streaming lo lo pratichiamo però insomma sempre più spesso è diventato un'opportunità per tutti. Allora ehm parto direttamente eh appunto alla presentazione ehm dei dei miei ospiti che ehm appunto mi danno l'opportunità di di discutere le tante cose che nel nel corso di questo questo anno e mezzo ehm dall'inizio dall'inizio della guerra in su larga scala in Ucraina ehm hanno significato per gli altri paesi eh della regione e ehm noi abbiamo cercato di seguirlo come facciamo sempre con una eh regolare quotidiana pubblicazione di materiali e ma anche con alcuni lavori di approfondimento e siccome il nostro pubblico eh li conosce ehm do soprattutto l'occasione a a a voi che siete avete avuto la eh la l'interesse e la voglia di venire fino qui ehm di di come dire approfondire la questione. Ehm direi che forse cominciamo direttamente con con gli interventi vi presento volta per volta eh la prima persona che mh ci tengo moltissimo a a presentare è Jelena Jankic dell'Istituto Universitario Europeo dove è docente, professoressa mh al Global Governance Program eh dello Schumann Center. Eh Jelena è una grande conoscitrice della regione non solo per esserne anche stata o essere ancora cittadina ma soprattutto perché mh per averlo studiato eh per tanti tanti anni e Jelena ha anche ehm avuto eh il privilegio direi di ehm pubblicare un volume collettaneo proprio specificatamente dedicato all'impatto della guerra in Ucraina e sul Balcani e quindi mh proprio perché a tua volta hai raccolto tante riflessioni mh degli studiosi europei eh citerei a dare per prima la parola ehm per darci un quadro naturalmente mh vorremmo non parlare tanto dell'integrazione europea che invece chiaramente è eh come dire è stata rilanciata evidentemente da dal disastro della guerra e mh ma avremo appunto un panel dedicato a questo e quindi a te e invece chiederei così di darci uno sguardo complessivo su eh che cosa ha significato ehm per i Balcani eh lo scoppio eh di questo terribile nuovo conflitto in Europa. Grazie. Per usare questo? Sì devi usarlo è anche vicino se no non ti sento. Funziona? Sì. Ok. Ah grazie Luisa buongiorno a tutti e sono contentissima di essere tornata a Trento dopo un po' di tempo e volevo ringraziare appunto l'OBC di aver organizzato questo evento importantissimo in questo momento importante dove c'è bisogno di solidarietà con l'Ucraina e con l'Europa dell'Est ma anche di tanta pazienza con i paesi nei Balcani a dirlo così. Volevo dirvi che non essendo madrilingua ti scusi in anticipo per qualsiasi errore grammaticale probabilmente utilizzerò qualche parola un pochino male. Allora ehm l'intervento che farò oggi è basato sul libro che Luisa ha appena menzionato e lì abbiamo raccolto i contributi di venticinque eh studiosi e analisti da tutto il mondo sia dai Balcani che dall'Europa ma anche dai Stati Uniti e Giappone. E effettivamente ehm la conclusione che possiamo fare in base a questo libro a prescindere dall'integrazione europea che sarà il tema del secondo panel è che la guerra in Ucraina non ha avuto un impatto diretto nei paesi dei Balcani e con questo volevo dire che la guerra non si è sparsa nella regione dei Balcani cioè la Russia non ha fatto un'offensiva contro i Balcani però l'invasione della Russia in Ucraina ha rafforzato le problematiche già esistenti nella regione dei Balcani occidentali e io oggi mi concentro su tre problematiche principali. La prima è che in quella regione le istituzioni di democrazia sono deboli e contestate e la guerra ha destabilizzato queste istituzioni ancora di più di quanto lo era quanto lo fossero prima dell'invasione. La seconda problematica sono le dipendenze sugli attori esterni e in particolare Cina e Russi in questo caso. E la terza è la disillusione col processo di allargamento e con l'idea che i Balcani diventeranno un giorno i stati membri della dell'Unione Europea. Allora per parlare della prima problematica dobbiamo tenere presente che le democrazie deboli sono molto facili da destabilizzare e i paesi nei Balcani sono tutti democrazie deboli sono tutti paesi che sono contestati cioè i paesi dove vari gruppi o dall'interno dello Stato o gruppi che stanno fuori da questi paesi contestano o i confini o le istituzioni o le identità politiche e etniche in questi paesi. La Bosnia e Kosovo sono tra i stati più contestati nei Balcani occidentali ed è proprio lì che l'impatto della guerra in Ucraina si è sentito di più. Per esempio in Bosnia il leader locale dei serbi ha rafforzato i legami con la Russia per sostenere la sua causa di secessione della Repubblica Sapska. In Kosovo la cosa che possiamo vedere sono mesi di instabilità e ovviamente le relazioni tra Kosovo e la Serbia stanno peggiorando da un giorno all'altro. Cioè in questo senso la guerra in Ucraina ha spinto, ha approfondito queste instabilità che esistevano già nei paesi dei Balcani. La seconda problematica la chiamerei il pranzo gratuito non esiste e effettivamente negli ultimi vent'anni nei paesi dei Balcani si sono create delle dipendenze soprattutto economiche ma anche politiche e culturali con i paesi non democratici e lì ho già menzionato la Cina e la Russia. E a causa di queste dipendenze nei vari paesi dei Balcani occidentali, incluso Serbia, Montenegro ma anche tutto il resto, ci sono state anche delle proteste pro-russe che hanno destabilizzato le democrazie in questi paesi. Possiamo anche vedere le ripercussioni della guerra in Ucraina a livello politico perché alcuni paesi non hanno introdotto le sanzioni contro la Russia per esempio la Serbia in particolare sta oscillando un pochino tra l'Ovest e la Russia e questa è una problematica che è stata risuscitata, che è stata rafforzata dalla guerra in Ucraina. E finalmente il terzo punto che farei in questo contesto è che la guerra in Ucraina ha approfondito la disillusione col processo di allargamento dell'Unione Europea. Nel prossimo panel sentiremo come sono state motivate, come sono state in un certo senso spinte in avanti le discussioni sul futuro allargamento dell'Unione Europea. E effettivamente questo ha cambiato poco nei Balcani e per i Balcani. Sì ci sono stati movimenti anche formali nel caso di Bosnia-Herzegovina, però sia i leader che le popolazioni di questi paesi si sentono un pochino messi da parte. E non è il fatto che tutto il focus è sull'Ucraina, ma anche il fatto che in questi paesi cioè la vicinanza dell'Europa non si è sentita tantissimo. Questo probabilmente non c'è da fare così tanto con l'Unione ma anche con il modo in cui questi paesi e questi governi sono stati catturati dai leader locali. In questo senso anche la spinta per l'allargamento non ha fatto tantissimo, non ha avuto tanto effetto nei Balcani occidentali che effettivamente far sentire la popolazione e i leader di questi paesi un pochino messi da parte. E finisco dicendo che tutte queste dinamiche che stanno succedendo nei paesi dei Balcani sono una situazione che è poco desiderabile perché i giovani stanno andando via da questi paesi e questo effettivamente riduce la capacità democratica, la capacità di questi paesi di cambiare nel futuro. E quelli effettivamente che rimangono in questi casi non guardano necessariamente nella direzione Europa. E questa è una situazione che spero cambierà nel futuro e che sia i leader che la popolazione dei Balcani si renderà conto dell'importanza di andare in questa direzione europea. E finisco qua, poi ci sono per le domande. Grazie. Grazie mille Elena per anche la capacità di riassumere in punti così chiari questo contesto veramente molto poco incoraggiante a tutto campo. Io non è facile scegliere l'ordine dei relatori perché ciascuno di voi riuscirà ad approfondire con il suo sguardo alcuni degli aspetti che tu hai citato e poi spero ci sarà una conversazione a più voci. Però seguo l'ordine della nostra tavola rotonda passando la parola a Roberto Belloni che è professore ordinario di scienza della politica all'Università di Trento ed è anche titolare della Cattedra Jean Monnet titolata The European Union, The Western Balkans, Enlargement and Resilience. Sulla resilienza abbiamo lavorato a lungo ma oggi vorrei soprattutto chiederti visto che hai lavorato più di recente nello specifico su una delle questioni fondamentali dell'impatto della guerra sui Balcani cioè della scelta in politica internazionale della Serbia o meglio del non allineamento della Serbia alla politica comune europea come tema, questione particolarmente difficile quindi con un impatto sulle relazioni internazionali nella regione. Magari insomma vuoi raccontarci che cosa ti è sembrato di capire di questo. Chiedo scusa. Grazie, buongiorno. Senti sì, innanzitutto grazie dell'invito. Sono molto contento di essere qui. Mi è capitato di parlare e discutere di Balcani in molti città, molti contesti differenti ma a memoria mai a Trento nonostante il fatto che io lavori a Trento quindi mi fa particolarmente piacere essere qua oggi di là di questo aneddoto. vorrei condividere con voi brevemente alcune osservazioni sul tema delle sanzioni che è stato introdotto già, a cui ha accennato Elena Gianchi, pochi minuti fa e cioè in particolare il dibattito che si è svolto e si sta ancora svolgendo in Serbia sulla necessità o meno di adottare le sanzioni che sono state imposte contro la Russia a seguito dell'aggressione russa in Ucraina. E' un tema molto interessante per una varietà di ragioni una delle quali è il fatto che la discussione stessa ha messo in risalto la complessa identità serba, come accennava Luisa un minuto fa rispetto al fatto di essere un paese politicamente da un punto di vista culturale e identitario con un crocevia tra est e ovest per molti aspetti. E' un tema poi anche molto importante dal punto di vista politico perché la Serbia è l'unico paese europeo che si è rifiutato di adottare sanzioni contro la Russia. E' una questione naturalmente molto rilevante dal punto di vista dell'allargamento di cui si parlerà nel prossimo panel perché uno dei requisiti, come sappiamo, lo ricordo brevemente, richiesti ai paesi che hanno fatto domande di adesione all'Unione Europea è quello di allineare la propria politica estera e le decisioni dell'Unione stessa. La formula dice appena tecnicamente possibile ma certamente nel giorno di ingresso, eventuale ingresso nell'Unione Europea. Bene, vorrei condividere con voi alcuni, brevemente, alcuni dati e risultati in frutto di una piccola ricerca che ho fatto su questo tema, cioè il rapporto tra la Serbia e le sanzioni in relazione all'aggressione russa in Ucraina. Allora, la prima cosa da dire è che l'elite serve, ma anche i cittadini, innanzitutto considerano, guardano alla situazione in Ucraina spesso non solamente o non esclusivamente in rapporto o in base a una valutazione dei meriti della situazione stessa, cioè del comportamento russo e così via, ma sulla base della propria esperienza degli ultimi 25-30 anni, cioè di un paese che ha vissuto un'esperienza di guerra e di sanzioni. Da questo punto di vista, i servi associano, molti servi, forniamo dei dati, associano l'aggressione russa alla guerra in Kosovo. Il primo punto da sollevare, da ricordare, è proprio questo, che viene spesso ricordato che la NATO è intervenuta in Kosovo senza, inizialmente o quantomeno, senza un mandato del Consiglio di Sicurezza, che era l'unico ente deputato a autorizzare l'intervento militare. Analogamente, molti servi pensano che l'indignazione internazionale nei confronti della Russia, che è intervenuta illegalmente, naturalmente, in Ucraina, è ipocrita. E questo è un primo aspetto molto interessante da prendere in considerazione. Non c'è, quindi da questo punto di vista vorrei essere molto chiaro, non c'è ostilità nei confronti dell'Ucraina in quanto tale, ma c'è antipatia, c'è una diffusa antipatia nella società e nell'elite politica serba nei confronti della NATO e degli Stati Uniti. Condivido alcuni dati. Soltanto un cittadino serbo su quattro pensa che la Russia sia responsabile della guerra in Ucraina. Il 66% dei cittadini pensa che la Russia sia stata costretta a iniziare la guerra per via dell'espansionismo della NATO a destra. Alla luce di questi dati, non sorprende il fatto che tutte le rilevazioni statistiche indicano che più dell'80% dei cittadini servi è contraria all'adozione di sanzioni contro la Russia. Quindi il comportamento, la decisione del governo serbo di non adottare le sanzioni è ampiamente condivisa dai cittadini. Un altro dato interessante è che due cittadini su tre serbi considerano la Russia il miglior amico della Serbia. Non l'Unione Europea, non Bruxelles, non l'Italia, ma la Russia. Perché? Ecco, brevemente. vorrei condividere altri dati velocemente perché sulla base dei dati capiamo anche un pochino meglio la situazione perché i cittadini serbi sono contrari alle sanzioni. Ecco, vorrei ricordare brevemente quali sono le ragioni principali. Di nuovo sono ragioni che hanno poco a che fare con i meriti della questione in Ucraina, i meriti e i demeriti soprattutto, ma che riflettono l'esperienza politica, militare, culturale vissuta dalla Serbia negli ultimi 25-30 anni. Il 44% dei cittadini serbi è contrario alle sanzioni per via della propria esperienza durante il periodo negli anni 90 quando allora Jugoslavia è stata soggetta a sanzioni perché la percezione è che le sanzioni siano una forma di punizione collettiva sostanzialmente. Poi c'è naturalmente il tema che molti serbi si sentono molto più affini al mondo russo dal punto di vista culturale religioso che all'Europa e poi naturalmente il problema del Kosovo. La Russia ha il privilegio di detenere il diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza e questo consente è un potere diplomatico considerevole per limitare il processo di riconoscimento internazionale del Kosovo. Arrivo alle conclusioni quindi questo tema delle sanzioni che sembra così astratto e lontano da noi in realtà mette in luce una serie di questioni molto importanti da un punto di vista politico per la situazione in riguardo all'impatto della guerra in Ucraina nei Balcani in particolare in Serbia. Il primo punto che voglio ricordare è che la guerra in Ucraina e il tema delle sanzioni ha rafforzato il potere dell'elite politica di Vucic in particolare del presidente Vucic che si è rifiutato di adottare le sanzioni alle elezioni dello scorso aprile del 22 Vucic ha avuto un ottimo successo elettorale grazie anche al suo slogan che voglio ricordare molto efficace dal punto di vista politico che era pace e stabilità a Vucic Vucic si è presentato come l'elemento di continuità e di stabilità per il paese in secondo luogo vorrei ricordare che l'insistenza europea rivolta ai serbi al governo serbo ai cittadini serbi rispetto alla necessità di adottare le sanzioni ha contribuito ad accrescere l'euroscetticismo nei confronti appunto dell'euroscetticismo nei confronti dell'Unione Europea del processo d'adesione un altro dato interessante quasi il 60% dei serbi ritiene che la Serbia non entrerà mai nell'Unione Europea questo ci dice qualcosa rispetto alle prospettive di fatto e concludo brevemente con questo di fatto l'insistenza europea rispetto alla richiesta di adottare le sanzioni rivolta alla Serbia ha creato e questo se ne parlerà nel prossimo panel un nuovo capitolo non dal punto di vista formale naturalmente ma da un punto di vista informale sia il Parlamento Europeo che la Commissione hanno più volte sottolineato la necessità da parte della Serbia di adottare le sanzioni contro la Russia per poter procedere nel processo di allargamento quindi per concludere questo tema delle sanzioni ha se mai ce ne fosse stato bisogno aggiunto un ulteriore ostacolo al percorso di adesione della Serbia grazie grazie a te Roberto spero ci sarà modo di conversare su questo tema visto che una parte della dell'esperienza dei cittadini è sicuramente fondante della loro interpretazione un'altra parte invece è frutto della visione politica che i media su cui i media insistono moltissimo tant'è vero che è molto come si chiama molto condivisa è molto uguale la narrativa tra i cittadini serbi quindi chiaramente segnale che esiste un forte ruolo del dei media controllati dal governo nel dare interpretazioni disponibili per tutti vorrei passare a il nostro altro relatore dando tanta spazio alla Serbia perché è chiaramente il paese più rilevante dal punto di vista politico nella regione perché condiziona anche i propri vicini perché è anche il paese più grosso e più dal punto di vista economico più significativo ma e in particolare quindi sono felice di passare il microfono anche a Giorgio Fruscione che è ricercatore ed editore presso un altro dei centri di studi italiani più importanti cioè l'ISPI istituto di politica internazionale di Milano e mai stato ed è anzi vice direttore anche di Sjornal e Giorgio ha una conoscenza molto approfondita della Serbia in particolare se non vado erato e quindi sono felice di sentire tu in qualche modo come interpreti il contesto attuale e in particolare questa questione del ruolo della Russia nel capitolo principale oltre a quelle delle sanzioni forse prima di quelle delle sanzioni che è la questione del Kosovo grazie grazie Luisa mi sentite innanzitutto grazie per l'organizzazione grazie per aver creato questo momento di incontro e confronto e spero sia solo il primo di tantissimi anni io volevo iniziare collegandomi a una cosa che ha detto Roberto perché anzi lo ringrazio per aver citato queste queste indagini relativamente ai motivi per cui la popolazione serba è contraria all'adozione delle sanzioni sostanzialmente tu citavi questo 44% che era una sorta diciamo di solidarietà di un'esperienza conosciuta a livello locale per il quale appunto non la si augura nessun altro che è assolutamente comprensibile come punto di vista quello che però si dimentica è che la Russia ha votato favorevolmente a tutte le sanzioni che riguardavano gli interessi nazionali della Serbia negli anni 90 quindi a favore dell'embargo per vietare le esportazioni di armi e questo anche quando la Russia attraverso degli escamotage consegnava le armi alla Croazia per combattere i serbi della Kraina quindi questo per dire due cose innanzitutto le relazioni internazionali si fanno tutelando l'interesse nazionale seconda cosa più che di fratellanza e di vicinanze culturali che sicuramente esistono dobbiamo parlare di relazioni basate sul pragmatismo quindi quello che voglio dire io è che il ruolo della Russia è un ruolo di presenza come al principale alleato politico della Serbia ma che più che su una vicinanza di sangue una vicinanza ancestrale come viene spacciata dai rispettivi circoli nazionalisti è un'alleanza basata sul pragmatismo che pone l'interesse nazionale in primo piano un anno fa quando è iniziata la cosiddetta guerra delle targhe probabilmente la nostra sensibilità di europei era così come dire suscettibile a qualunque tipo di incidente scossone a livello internazionale per cui tutti pensavamo che dietro i disordini in Kosovo ci fosse la mano diretta del Cremlino e che ci fosse la possibilità di un nuovo fronte aperto ecco la realtà è che i disordini del Kosovo sono autenticamente locali poi magari Riccardo riuscirà a darci un punto di vista più approfondito a livello locale e c'è un ruolo della Russia che è indiretto la Russia non è coinvolta direttamente e io credo che un coinvolgimento diretto della Russia sul campo sia da escludere per diversi motivi la Russia non ha mai invaso con truppe di terra paesi non confinanti da quando ha smesso di esistere l'Unione Sovietica e non lo farà neanche nel Kosovo e spero di non sbagliarmi per una questione di scarso interesse strategico non è una non è una regione quella dei Balcani dove la Russia coltiva degli interessi interessi nazionali di primo ordine tali da arrivare a apparire un ulteriore fronte all'estero seconda cosa la Russia si è già disimpegnata dal Kosovo da vent'anni nel 2003 le ultime truppe russe hanno lasciato il Kosovo è un'esperienza che non è destinata a essere riaperta in modo così palese inoltre hanno capito sia al Cremlino che altrove che si può sfruttare l'instabilità politica e l'instabilità geopolitica dei Balcani senza muovere un dito ma di fatto sostanzialmente sfruttando quelle che sono i risultati di un'instabilità che torno a dire è autenticamente locale e frutto di dinamiche che sono circoscritte esclusivamente al Kosovo se vogliamo anche restringere il cerchio al nord del Kosovo e che quindi e sulle quali il Cremlino non gioca un ruolo di influenza diretta ma appunto raccoglie quelli che sono i risultati di queste di queste escalation a livello locale per cui ecco l'anno scorso e poi con tutti i vari episodi successivi ricordiamo l'attacco ai soldati della K4A quanto è successo poco più di un mese fa nel paesino di Banska abbiamo sempre pensato dietro c'è il dietro c'è il ruolo del Cremlino è un'interpretazione che rischia di farci leggere male gli eventi e soprattutto di sottovalutarli perché dico questo? perché se noi andiamo a vedere quanto è successo un mese fa in Kosovo nel paesino di Banska ci rendiamo conto che è un'azione che noi riusciamo ancora a decifrare si tratta di un comando paramilitare molto probabilmente che agiva sotto il controllo di Belgrado ma che non è riconducibile a strutture statuali definite quindi non un esercito regolare non un'azione militare prolungata e sicuramente non l'inizio di un nuovo conflitto per assurdo questo è molto più destabilizzante a livello politico e geopolitico di un confronto aperto con due eserciti tradizionali è assurdo chiaramente perché primo perché è poco verificabile che cosa è realmente successo e con quali obiettivi secondo perché è difficile identificare quelle che sono state le catene di comando io ne parlavo prima dell'evento con alcune persone nel pubblico i fatti di Banska sostanzialmente rappresentano uno spartiacque proprio per questo c'è la volontà di dimostrare che la Serbia non è dietro questi eventi la Russia non è dietro questi eventi ma di fatto entrambi ne giovano indirettamente quindi per arrivare a una conclusione su quello che è il ruolo della Russia è un ruolo assolutamente di facciata che negli anni ha provato a colmare un voto lasciato dalle promesse europee e nonostante non sia né il primo partner commerciale né un né uno dei principali fornitori di aiuti economici al paese è un paese che sulla base di retoriche di facciata riesce continuamente a rinnovare il proprio soft power reiterando di fatto l'intransigenza al riconoscimento del Kosovo ma senza mai impegnarsi di conseguenza no? quindi oltre a ripetere il rispetto della risoluzione 1-2-4-4 la Russia non ha mai offerto un tavolo negoziale non ha mai offerto la possibilità tutelando i propri interessi di risolvere la questione a livello diplomatico una volta per tutte la Russia non offre nulla offre solo il continuare a reiterare il mancato riconoscimento del Kosovo e questo è il nucleo delle relazioni che fondano l'alleanza con la Serbia per cui ecco adesso concludo veramente credo che sia questo che rende popolare il il cremelino a Belgrado e sia questo sentimento anti occidentale anti establishment che la guerra in Ucraina ha risvegliato concludo con un messaggio diciamo un po' di speranza la speranza che io avevo era per l'accordo l'accordo diocrida tra Belgrado e Pristina perché da un punto di vista geopolitico aveva una funzione di disincentivo nei confronti della Russia se si impegnava realmente la Serbia a smettere di ostacolare il processo di affermazione internazionale del Kosovo sostanzialmente si svuotava si svuotava l'alleanza che c'è tra Russia e Serbia perché di fatto se la Serbia comincia non riconoscere ma a smettere di ostacolare il processo di affermazione del Kosovo di fatto la Russia che interesse ha a continuare a fermare questa posizione per cui da un punto di vista geopolitico l'accordo diocrida che purtroppo è poi stato immediatamente congelato dagli eventi aveva un potenziale geopolitico molto forte e io spero che sia il punto di partenza che avremo di nuovo quando riusciremo ad assicurare la de-escalation a livello locale grazie grazie mille per forse chi non ha seguito così da vicino gli eventi una piccola nota così a margine per indicare che appunto questi accordi diocrida erano frutto dei primi mesi diciamo del primo anno dopo l'inizio della guerra in Ucraina quando c'era la speranza che la rinnovata centralità geopolitica dei Balcani ha rimesso in campo l'Unione Europea nel cercare una mediazione tra Kosovo e Serbia e gli accordi diocrida sono arrivati nella primavera di quest'anno mai sottoscritti sulla carta ma solo a parole dai due leader politici che sono chiaramente naufragati in due episodi molto grossi di violenza in particolare l'ultimo citato di Banska ma anche quello di pochi mesi prima sempre in primavera con l'attacco ai soldati della KFOR che abbiamo visto in televisione l'ho specificato solo perché appunto purtroppo noi entriamo così tanto nelle questioni che seguiamo che ci dimentichiamo che il mondo è anche fatto gente che vive serenamente senza sapere niente di tutto ciò quello che voglio dire è che questo fallimento così in realtà cambia anche l'ordine del programma per facilitare le cose quello che è sembrato almeno di nuovo da lettore non informato dei fatti dietro le quinte ma dei media è stato che il fallimento è stato attribuito soprattutto ai kosovari che sono stati inizialmente fortemente criticati e anche penalizzati formalmente dall'Unione Europea perché appunto questa speranza di avere trovato l'elemento per risolvere la questione non c'era la domanda se questa interpretazione è vera o meno ci sono tanti tanti dubbi infatti il dibattito si è aperto moltissimo di critica in critica alla scelta di penalizzare soltanto Pristina invece che entrambi visto il degenerare della crisi quindi cambio l'ordine e quindi Massimo Moratti mi perdonerà do subito volentieri la parola a Riccardo Celeghini perché lui vive in Kosovo proprio perché è direttore dell'ufficio regionale per il Kosovo occidentale presso l'OSCE e quindi in qualche modo ti colleghi sicuramente meglio direttamente alle cose che sono appena state dette per chiederti appunto così da dentro dal paese come come è possibile interpretare questi sviluppi del Kosovo sì grazie grazie Luisa grazie per l'invito mi fa molto piacere essere qui esatto io vivo in Kosovo da molti anni e decisamente l'ultimo anno il 2023 è stato uno dei più intensi in termini di sviluppi politici e di sicurezza nella regione come è stato detto prima l'anno era iniziato con grandi aspettative con gli accordi di Bruxelles poi confermati ad Ocritt e invece è stato poi macchiato da episodi violenti in particolare i due che hai citato tu di alta intensità quello di maggio davanti al comune di Svecian nel nord del Kosovo in cui più di 30 soldati della Nato sono stati feriti gravemente in scontri con manifestanti serbi e poi l'ultimo l'attacco terroristico di Bainska a fine settembre in cui è morto un poliziotto kosovaro e poi tre assalitori serbi sono stati uccisi nella successiva operazione della polizia questi episodi in realtà sono il culmine di un periodo di tensione piuttosto lungo un periodo di tensione che appunto si concentra nel nord del Kosovo e che in realtà inizia prima della guerra in Ucraina forse un punto di svolta per questo clima è il cambio di leadership in Kosovo che avviene un anno prima nel febbraio del 2021 perché la nuova leadership impersonata da Albin Kurti ma anche dalla presidente Osmani ha un approccio diverso rispetto al passato nel rapporto con la Serbia e nel rapporto con il nord del Kosovo sicuramente più deciso meno compiacente con le richieste internazionali basato su dei principi come quello della reciprocità cioè ciò che la Serbia fa applica al Kosovo ai Kosovari il Kosovo replicherà a specchio verso la Serbia e nell'idea di instaurare la sovranità del governo di Pristina sul nord dopo anni in cui è stata considerata una regione un po' assestante e questo approccio chiaramente che abbiamo visto in diverse fasi in diverse decisioni soprattutto sulle targhe delle auto sui documenti ha trovato una risposta netta da parte di Belgrado e dei serbi del Kosovo che su questo diciamo non hanno mostrato nessuna differenza rispetto alla politica del governo serbo sono stati totalmente allineati in un rifiuto di queste politiche quindi la guerra in Ucraina in realtà agisce in un contesto già teso la guerra in Ucraina chiaramente viene sentita in modo molto forte in Kosovo soprattutto i Kosovari albanesi rivivono un po' i drammi degli anni 90 e quindi c'è un sentimento sincero di solidarietà verso gli ucraini nonostante l'Ucraina come sappiamo non riconosce il Kosovo ma questo non cambia il sentimento della popolazione oggi a Pristina si trovano tantissime bandiere ucraine slogan in supporto quindi una solidarietà sincera e soprattutto il governo del Kosovo usa la situazione in Ucraina per lanciare un allarme per ripetere spesso che ciò che sta avvenendo in Ucraina si può ripetere in Kosovo che la Serbia può agire per conto di Putin e usare il nord del Kosovo il modello del Donbass in Ucraina fatto dalla Russia e chiede a gran voce di facilitare l'ingresso del Kosovo nella NATO con una procedura semplificata che garantirebbe quella sicurezza che ora è a rischio e quindi tutto il 2022 è marcato da crisi come quella soprattutto delle targhe e da questa retorica Kurti che accusa Vucic di creare uno scenario ucraino in Kosovo e Vucic chiaramente a negare ed accusare invece il governo del Kosovo di una politica discriminatoria lui parla addirittura di pulizia etnica danno dei serbi in realtà come anche dicevamo prima la guerra in Ucraina ha in realtà un effetto anche un effetto a livello diplomatico come dicevi tu perché proprio considerato lo sviluppo ad est l'Unione Europea su iniziativa soprattutto tedesca si rende conto che i Balcani sono un'area un'altra area di potenziale di potenziale crisi in cui la Russia in modo indiretto può comunque giocare sulle divisioni della regione e quindi è necessario uno sforzo un tentativo un'iniziativa per risolvere i nodi tanti nodi aperti il Kosovo è sicuramente il principale quindi già pochi mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina l'iniziativa soprattutto appunto tedesca insieme alla Francia porta a diciamo a organizzare prima degli incontri mediati da Scholz con i due leader poi un summit organizzato dalla presidenza francese in giugno con un focus sui Balcani Occidentali e soprattutto con questo piano franco tedesco di cui si inizia a parlare già in estate e che poi dopo diversi mesi diventa diventa pubblico con l'accordo di Bruxelles del febbraio del 2023 quindi in parallelo con una situazione di crisi che ha avuto il culmine poi nel novembre del 2022 quando i serbi hanno lasciato in massa le istituzioni kosovare di fatto cancellando i risultati dell'accordo di Bruxelles del 2013 che aveva portato all'integrazione dei serbi del nord nelle strutture kosovare in parallelo c'è uno sviluppo che sembrerebbe positivo l'accordo come detto te non firmato prevede di fatto uno scambio il kosov procederà a creare l'associazione dei comuni a maggioranza serba del kosov un organo di autogoverno che era già previsto negli accordi del 2013 e che il kosov non ha mai attuato in cambio di una serie di passaggi della Serbia che diciamo vengono sottolineati presentati come un riconoscimento de facto del kosov ispirato al modello delle due Germania e della guerra fredda la Serbia dovrebbe riconoscere documenti simboli nazionali aprire un ufficio diplomatico in kosov e soprattutto astenersi dall'ostacolare il kosov nei consensi internazionali in cambio appunto di questa associazione in realtà fin da subito l'accordo si vede che avrà molte difficoltà prima di tutto la Serbia già poche settimane dopo Okrid vota contro la richiesta del kosov di entrare nel Consiglio d'Europa in qualche modo dimostrando che l'accordo non ha intenzione di rispettare in pieno l'accordo senza ricevere nessuna sanzione quindi l'accordo di per sé non ha una forza tale di imporsi con le parti e poi soprattutto sul campo gli eventi vanno in tutt'altra direzione perché poche settimane dopo l'accordo ci sono le elezioni anticipate nel nord un'elezione boicottata dai serbi l'elezione di quattro sindaci albanesi nei quattro comuni a maggioranza serba che degenera poi negli eventi di Svecian che ho citato prima quando i quattro sindaci provano ad entrare nei comuni negli uffici comunali dei quattro comuni e i manifestanti serbi organizzati ben armati si scontrano con le forze della Keifor tra cui anche i soldati italiani e quindi da subito l'accordo entra in crisi inizia un periodo di ulteriori tensioni c'è l'arresto di tre poliziotti kosovari in Serbia c'è un tentativo di incontro a settembre a Bruxelles che è un totale fallimento fra le due parti e c'è effettivamente un atteggiamento dell'Unione Europea molto critico verso il Kosovo soprattutto con la decisione di provare a portare questi quattro sindaci negli uffici comunali viene fortemente stigmatizzata dagli Stati Uniti che per la prima volta parlano apertamente contro il Kosovo e dall'Unione Europea e quindi inizia una fase di rapporti piuttosto gelidi fra Kurti e Borrell e l'inviato Lajczak e soprattutto c'è la decisione di imporre delle sorte di sanzioni verso il Kosovo in termini di finanziamenti europei che vengono bloccati di partecipazioni ad eventi che chiaramente è vissuto in Kosovo come un'ingiustizia perché non è stato applicato lo stesso per la Serbia nonostante la Serbia non abbia rispettato di fatto l'accordo in alcuni passaggi questo clima di conflitto congelato ha avuto poi questa esplosione nei fatti di Bainska che ancora appunto molti aspetti sono da chiarire ma che dimostrano come se il conflitto resta congelato possono avvenire momenti di crisi di diverse entità di diverse intensità anche alta intensità come questi ultimi di fatti la Comitazione Internazionale ha provato subito a ripartire c'è stato questo incontro dei più alti livelli europei Vucic e Curti sono stati di fatto convocati di fronte a Macron Scholz Meloni è leader dell'Unione Europea per provare a ripartire subito in realtà mentre Curti sembra avere un po' aperto la possibilità di creare l'associazione Vucic sta in pieno periodo elettorale quindi difficilmente fino a dicembre potrà concedere su quel fronte e quindi il rischio è quello che il conflitto rimanga congelato e nel conflitto congelato non ci sono al momento rischi di guerra perché ricordiamo in Kosovo c'è una presenza di quasi 4.000 personale soldati della Nato che scongiurano una possibile escalation di quel tipo ma ci sono attori in grado di con interesse e mezzi come ha dimostrato Bainska per destabilizzare l'intera regione quindi saranno mesi ancora tesi e da monitorare grazie grazie mille per avere Riccardo per avere percorso tutte queste vicende che alla fine susseguendosi in un ritmo così infernale rendono difficile anche chi li segue professionalmente di tenerli in mente nell'ordine che ci hai giustamente ricordato io adesso vorrei dare la parola al nostro ultimo relatore cioè Massimo Moratti che a sua volta come buona parte di voi ha un'esperienza di tanti tanti anni nei Balcani ieri abbiamo fatto tante memorabilia io ricordo a mia volta che la prima volta che ci siamo incontrati era il novantotto ed eravamo in Bosnia a Priedor ed eravamo giovani la cosa che però non era questa la domanda vorrei però ricordare anche che sei stato vice direttore di Ames International nell'ufficio regionale europeo che sei un analista politico molto raffinato ultimamente hai scritto tanto per noi sia parlando della della Serbia di quello che in Serbia nel frattempo è avvenuto in relazione agli eventi che stiamo raccontando e alla sua società ma anche conosci molto molto bene la Bosnia appunto perché ci hai vissuto a lungo quindi su entrambi i filoni mi piacerebbe sentire la tua voce per capire anche da un punto di vista di una società che in realtà nonostante tanta propaganda è anche spesso in piazza e spesso vivace nella sua capacità di dimostrare una risposta delle istituzioni sempre meno democratiche e via discorrendo quindi a te la parola Massimo grazie Luisa e grazie per l'invito è bello essere di nuovo qui a Trento e collaborare di nuovo con l'osservatorio e come dicevo appunto adesso io sono ritornato a Belgrado a giugno dell'anno scorso 2022 prima avevo vissuto a Belgrado dal 2011 al 2018 e prima ancora avevo vissuto 12 anni in Bosnia quindi posso dire di conoscere la Bosnia quando Dodik era il prediletto della comunità internazionale e posso dire di conoscere la Serbia prima di Vucic quindi ecco parlando di Vucic del sistema Vucic il motto come ha detto Roberto era pace stabilità Vucic un commentatore qualche mese dopo ha detto non abbiamo né pace né stabilità c'è rimasto solo Vucic e e di fatto siamo rimasti con Vucic le elezioni sono state fatte ad aprile del 2022 il governo è stato formato solo in la tarda estate del 2022 e a quel tempo Vucic che insomma ricordiamoci la Serbia è una repubblica parlamentare il presidente dà l'incarico al futuro ministro del governo quel tempo appunto Vucic dette l'incarico ad Anna Bernabic e ha detto le ha dato un lavoro a tempo determinato perché ha detto fino a dicembre 2023 la Bernabic sarà primo ministro e infatti siamo dicembre stiamo arrivando e ci ci saranno le elezioni quindi Vucic ha mantenuto quella promessa in realtà come siamo giunte a queste elezioni abbiamo parlato tanto di Kosovo adesso adesso mi focalizzerò un po' sulla questione interna in Serbia perché le cose sono tutte estremamente collegate non ci sono compartimenti spani tra politica estera politica interna la sequestrazione di Kosovo eccetera e tra l'altro appunto voglio anche fare un inciso si parla si parla appunto del statuto della comunità associazione delle municipalità serbe in Kosovo anche questo diversificazione di nomi indica qualcosa e il fatto che comunque questa perché questa entra in vigore c'era necessario che sia in conformità con la costituzione kosovana quello che molti ancora si dimenticano è che la costituzione della Serbia del 2006 prevede il Kosovo come parte costituente della Serbia quindi un presidente che un giorno dovesse riconoscere il Kosovo deve poi iniziare un meccanismo di riforma costituzionale e appunto l'articolo 182 della costituzione dice che per modificare lo statuto del Kosovo occorre una legge di livello costituzionale quindi provate a immaginare cosa potrebbe succedere in Serbia se un presidente dicesse adesso modificiamo la costituzione per riconoscere il Kosovo credo che al momento siamo lontanissimi da questa situazione ma quello che voglio parlarvi appunto è qual è la dinamica interna della società serba perché quest'anno è stato un anno abbastanza parecchio intenso anche dal punto di vista interno in Serbia ritornando a Belgrado dopo quattro anni quello che ho notato io quello che ho notato chi ci ritornava era una una sorta di apatia non era più la Belgrado vibrante degli anni 90 degli anni 2000 era un po' il sistema era stato tutto messo a tacere tutto calmo e un po' ricorda un po' quello che si diceva ieri perché Putin ha fatto il patto con i cittadini voi non vi occupate di politica lasciate fare a me voi continuate a vivere la bella vita e questo un po' ricorda quella sorta di patto con i cittadini che ha fatto Putin d'altronde un'altra analogia è il fatto che una bella fetta delle nuove generazioni di serbi sono già all'estero perché se voi andate in Croazia adesso trovate i camerieri serbi che lavorano in Croazia e a Belgrado adesso gli autisti d'autobus sono o pensionati richiamati a lavoro oppure quei pochi migranti persone di colore proprio che stanno guidando gli autobus quindi ci si trova ad avere una parte del paese che è già all'estero e anche questo è un qualcosa da tenere presente anche in vista del futuro del futuro di genere europeo e quindi ci siamo trovati con questa società abbastanza addormente addomesticata a guardare i reality in televisione eccetera finché è successo appunto due fatti di cronaca nera che hanno scoperchiato un po' la la pentola il 3 di maggio e il 4 di maggio sono state due sparatorie una nella scuola tra l'altro vicinissima a casa mia dove appunto dieci nove studenti di una scuola elementare tra i tre di scrittore cianni sono rimasti uccisi più il custode il giorno dopo episodio di emulazione in una città poco fuori Belgrado altre anche lì otto vittime ed è uno shock questo è stato uno shock che però da fuori pochi hanno capito un po' cosa cos'erano le cause le root causes le cause alla base questo e il fatto invece della società lì la gente ha cominciato a capire proprio cosa era cosa aveva provocato questo chiaramente non c'è un nesso di relazione causale ma il fatto che la violenza nella società serba sia così radicata che sia così tollerata e si sta parlando soprattutto dei reality show che vengono trasmessi sulle televisioni che sono guardatissime televisioni che sono amiche del governo che hanno una frequenza nazionale Pink Happy TV e il fatto comunque che questa cultura di violenza sia così permeata alla fine è esplosa in questi due episodi e lì guardando quello che è successo è detto qui se il governo non riesce a gestirla bene in modo trasparente c'è il rischio che egli si rivolti contro ed effettivamente è quello che è successo pochi mesi poche settimane dopo qui in Italia ancora non si è sentito molto ma a partire dall'otto di maggio del 2000 di quest'anno fino a tuttora anche oggi credo ce ne sarà una ogni sabato a Belgrado ci sono le proteste del Serbia contro la violenza e sono proteste che hanno portato in piazza 50-60 mila persone il ponte di Gazella si diceva che stesse tremando tutta la città bloccata e le richieste della protesta appunto sono state abbastanza significative chiedevano le dimissioni di Gassic e di Wuling quindi era ministro degli interni e il ministro dell'agenzia per la sicurezza dei servizi la revoca delle frequenze nazionali date alle televisioni che propagavano la violenza la chiusura dei reality show e le dimissioni dell'ente regolatore dei media sostanzialmente bersagliavano l'apparato di repressione e l'apparato informativo di propaganda del sistema del sistema Vucic e pian pianino su alcune cose il governo prima ha cercato di negoziare ha cercato di prendere in giro quelli che protestavano poi pian pianino ha dovuto a consentire a queste alcune di queste richieste Wuling si è andato la settimana scorsa Gassic è ancora là la REM e l'interregolatore non è ben messo però appunto man mano queste proteste hanno continuato a fare pressione fino a che il governo già a settembre ha detto che a dicembre ci sarebbero state le elezioni e l'obiettivo sarebbe quello pian piano di smantellare l'apparato di Wucic l'apparato di governo perché quello che ci si dimentica e quello che soprattutto le cancellerie diplomatiche dimenticano è che la Serbia è uno stato di capture state è uno stato prigioniero dove tutte le istituzioni sono state infiltrate permeate dalla gente del partito tu per iscrivere i bambini all'asilo mi diceva una mia amica devi essere membro del partito quindi rendiamoci conto ci sono ancora poche sacche di indipendenza nella magistratura ma parlo di sacche di indipendenza alla fine poi è tutto controllato e quindi c'è il tentativo di formulare di formulare un movimento dei punti che dalla protesta arriveranno alle elezioni alla fine il governo le ha concesse le elezioni e le ha concesse in un periodo abbastanza insolito perché il 17 dicembre ci saranno le elezioni chiaramente Vucis la concesse quando fa comodo lui non ci si può aspettare che faccia un favore all'opposizione e anche se presidente di teoria su tutte le parti in realtà Vucis adesso sta facendo la campagna elettorale per l'SNS cioè si vede ogni giorno in televisione facendo lui da spot elettorale e ci saranno le elezioni parlamentari e le elezioni di metà della Serbia perché a ottobre è arrivato l'ordine a 65 sindaci di dimettersi quindi da un giorno all'altro 65 sindaci fuori è il sindaco di Belgrado si sono dimessi hanno dato le dimissioni e quindi saranno indette le elezioni in metà dei comuni l'altra metà dei comuni saranno fatte tra sei mesi e cosa un po' strana metà del paese le amministrative chiaramente c'è c'è qualcuno che sta pensando ci si sta preparando per queste elezioni saranno le elezioni da seguire quello che la gente ha cominciato a notare è che appunto ci sono stati dei trasferimenti di residenza da municipalità fuori Belgrado a Belgrado di persone che trasferiscono la propria residenza da municipalità dove non si vota a quelle dove si vota la polizia non è stata in grado di fornire dati su quante persone stanno trasferendo la residenza parlando con gli amici così dicono sì abbiamo ricevuto la lista che dobbiamo fornire 20 voti al partito quindi chi lavora nelle ditte chi lavora nelle imprese statali nella pubblica amministrazione comunque ha ricevuto il lavoro tramite il partito deve assicurare un top numero di voti eccetera e quindi si sta adesso ad ogni piesso spinto vengono fuori queste queste storie qui saranno elezioni molto contese l'OSCE ha annunciato un monitoraggio delle elezioni però si parla di una cifra di 250 osservatori e in Serbia ci saranno circa 8500 seggi io ho fatto 250 è un buon numero c'erano 300 l'anno scorso in Bosnia ma comunque vuol dire che gli osservatori stanno mezz'ora nel seggio poi vanno al seggio successivo quindi può succedere di tutto quindi teniamo che non ci stiamo attenti e poi appunto quello che non dobbiamo ricordare dimenticare è che siamo in una situazione in cui le frodi avvengono prima delle elezioni cioè il giorno delle elezioni c'è il membro del partito che sta sotto casa tua per controllare chi del condominio va a votare e chi non va a votare e ci hanno già la lista controllando chi quindi queste sono cose molto difficili da capire siamo un po' come i tempi del socialismo la cosa più importante delle elezioni non è chi vince ma è l'afflusso di votanti perché un alto numero di votanti vuol dire che le opposizioni sono riuscite a mobilitare le proprie persone un basso un basso afflusso un basso risultato in questo senso è il significato che il partito è riuscito ad addormentare ancora di più l'elettorato e la gente quindi rinuncia oppure come si diceva vota con i piedi nel senso che sono già all'estero e non ritorno ed è questo un po' lo scenario interno e per concludere la la delusione della società civile serba delle persone serbe è che comunque Vucic viene considerato un fattore di stabilità vengono le stabilocrazie così in realtà come si faccia a notare nei 12 anni da quando l'SNS è andato al potere è stato un mandato parlamentare che è stato completato si è sempre arrivati a elezioni anticipate scioglimento anticipato quindi è il contrario della stabilità la stabilità è quando si trasferisce il potere senza scossoni con un'alternanza però appunto c'è questa discrepanza tra la situazione internazionale e il sostegno che Vucic ancora mantiene e la situazione interna che contribuisce ancora di più alla disillusione dei cittadini verso il processo di adesione all'Unione Europea che vedono come queste alla fine siano tutti assieme questo è qua grazie mille Massimo per averci portato anche appunto a connettere direttamente le dinamiche interne con quelle internazionali perché appunto le società domesticate sono quelle nelle quali le scelte politiche dall'alto sono così radicali e insieme poi appunto sono quelle in cui si stabilizza anche una lettura dei fatti molto condivisa io il tempo purtroppo è tirano quindi abbiamo già esaurito il nostro spazio però magari lascerei a ciascuno di voi la possibilità di fare un commento conclusivo prima di lasciare il spazio al secondo panel senza che io vi faccia una specifica domanda di commento se mai a quello che avete ascoltato o che volete aggiungere e che non siete stati in grado di dire in un veramente due battute ciascuno ripartendo dall'ordine iniziale quindi a Jelena per prima il microfono grazie Luisa però dirò solo una cosa che sono contentissima di aver fatto questo panel sono contentissima di aver fatto parte di questo panel effettivamente che le cose di cui ho parlato all'inizio il fatto che l'impatto della Russia della guerra sui Balcani è molto più indiretto di quello che si pensa e che la Russia tramite il potere soft potere sottile nella regione sta destabilizzando effettivamente le istituzioni democratiche però che la fonte di questa instabilità sono attori locali mi fa piacere che Massimiliano appunto ha menzionato questo il fatto che la gente sta andando via dai Balcani che stanno andando via il brain drain alle persone giovani con capacità democratica e che sta crescendo un po' questa disillusione con l'Unione Europea e anche come ha detto Roberto all'euroscetticismo e queste sono cose che dobbiamo tenere presente se pensiamo al futuro dei Balcani come risolvere queste cose e queste problematiche e passo grazie mille Roberto grazie sono tante cose da uscire dunque io vorrei solo dire questo che sono d'accordo con quanto è stato detto per altri redattori rispetto all'influenza russa nella regione sì è molto facile presentare l'influenza russa come maggiore di quella che è poi sul campo non ci sono soldati russi c'è un livello di scambi economici anche che è molto più basso rispetto agli investimenti europei anche il cosiddetto soft power è limitato dal punto di vista dell'energia che è stato uno dei punti diciamo di forza della Russia in termini di influenza le cose stanno cambiando velocemente pur tuttavia pur tuttavia mi sento di condividere con voi l'impressione che sarà comunque molto difficile sganciarsi da questo rapporto di dipendenza che è anche culturale ed è costruito dall'élite si parlava dei media prima in maniera quasi scientifica a tavolino adesso non ho tempo per elaborare sul tema ma dico soltanto a modi esempio come un quotidiano servo giorno dell'aggressione russa all'Ucraina ha scritto a base nel che è screditato quotidiano ma comunque è diffuso ha scritto l'Ucraina ha attaccato la Russia insomma e ci sono invece ci sono molti quotidiani filogovernativi invece rivisoli eccetera che presentano quotidianamente la Serbia come vittima di un complotto geopolitico e Vucic come un fattore di stabilità e la Russia come un amico della Serbia allora che questo sia costruito in maniera scientifica a tavolino rilevare questo aspetto non lo rende meno reale poi nell'avere un impatto nella politica locale quindi per quanto la Russia sia in fase effettivamente gli strumenti di influenza stiano diminuendo nella regione rimane comunque un fattore importantissimo chiudo sul rapporto sulla questione Kosovo si diceva prima che insomma è difficile per la Russia avere un impatto e così via però dico questo faccio questa piccolissima osservazione e cioè che se io non credo che in inglese si dice il foreseeable future cioè nel futuro che possiamo vedere in termini brevi medio brevi nulla cambierà nel rapporto tra Serbia e Kosovo la Serbia assolutamente è nella costituzione non la riconoscerà eccetera eccetera ma dire anche questo che se il fatto di mantenere o avere un atteggiamento diciamo di apertura nei confronti del riconoscimento del Kosovo e di essere scavalcati dalla Russia se la Russia dovesse avere un atteggiamento imprensigente sarebbe catastrofico da un punto di vista politico locale perché l'impressione dei cittadini sarebbe che il governo serbo cosa che non farà ma stiamo parlando di fanta politica se dovesse farlo il governo serbo sarà immediatamente accusato di cedere alle pressioni dell'occidente e i russi come sempre invece hanno un atteggiamento molto più coerente di difesa del Kosovo quindi è più complicato di quanto spesso viene presentato grazie grazie Giorgio una battuta anche tu perché siamo sì sì sarò molto breve ecco uno degli elementi che prima non mi sono dimenticato di dire di vicinanza tra Mosca e Belgrado è sicuramente il modello autoritario probabilmente il primo prodotto importato in Serbia dalla Russia anche se è un prodotto comunque autentico ecco esatto perché è una leadership che si costituisce con elementi locali con retoriche locali si basa su un'esperienza politica quella degli anni 90 che appunto rimane circoscritta alla regione eccetera e collegandomi anche con quello che ha detto Massimo noi questo state capture cioè queste istituzioni intrappolate dalle maglie del partito la possiamo anche quantificare io ero arrivato a un dato ed era che un cittadino su nove è un membro del partito è iscritto al partito quindi parliamo in totale di più di 700.000 iscritti il dato è di qualche anno fa su meno di 7 milioni di abitanti capite bene che sono numeri importanti cittadini non elettori se riduciamo agli elettori arriviamo praticamente a un elettore su 8 e rapportato a i numeri dell'affluenza che negli ultimi anni si assesta intorno al 50% capisci bene che abbiamo un 25% di voti assicurati da iscritti al partito se si applica la politica del porta un amico o porta tuo marito tua moglie tua sorella arriviamo al 50% sicuri solo per il partito di governo quindi ecco io credo che gli episodi di cambio di residenza i morti che votano perché non vengono aggiornate le liste elettorali i trenino bulgaro che sono tutti questi modi per imbrogliare e fare brogli servono più per aggiustare la percentuale finale alla fine il sistema è talmente corrotto in favore del partito di governo che non è neanche necessario ricorrere ai modi a partire appunto dal controllo dei media per cui ecco l'autoritarismo è veramente ha incancrenito tutti i livelli della Serbia non solo la politica esatto per cui ecco Vucic potrà anche andare via ma ci saranno delle strutture delle dinamiche interne alle istituzioni interne al paese che sarà difficile da da rimuovere anche qualora se ne andasse lui Riccardo sì grazie forse aggiungerei soltanto che giustamente abbiamo parlato molto di Serbia e di Kosovo perché lì è l'area al momento più tesa con i rischi maggiori è importante tenere gli occhi aperti anche ovviamente sulla Bosnia Herzegovina sulla politica di Dodik che è apertamente filorussa che poche settimane fa ha parlato di uno spazio servo nella regione occhi aperti anche sul Montenegro che sia un membro della Nato ma ha una percentuale di popolazione di partiti politici apertamente filorussi che nel nuovo governo non fanno parte del nuovo governo ma appoggiano in termini di fiducia il nuovo governo e potrebbero avere un ruolo rilevante quindi è tutta la regione a essere legata a questi sviluppi un po' meno la Macedonia del Nord dove anche l'opposizione che potrebbe vincere le prossime elezioni è comunque stabilmente ha preso una viega molto più filo occidentale ma c'è forte frustrazione verso il percorso di adesione all'Unione Europea al veto bulgaro quindi tutta la regione va monitorata perché gli sviluppi tra Kosovo e Serbia possono avere poi conseguenze anche negli altri paesi grazie mille anche per davvero aver ampliato lo sguardo Massimo ultima battuta sì con una battuta veramente appunto i russi sono fratelli ma non sono fratelli gemelli si sa chi è il fratello maggiore che è il fratello minore e poi uno gli amici se li sceglie ma i fratelli no ricordiamoci che la Russia la Russia appunto ci sono stati un paio di episodi in cui c'è stato una mancanza di allenamento tra Russia e Serbia quando la Russia un paio di volte ha fatto riferimento al Kosovo come riferimento alla Crimea e tutti i tabloidi di regime hanno detto la Russia ha pugnalato le spalle la Serbia sono stati dei momenti molto brevi in questo senso però ogni tanto si vedono queste discrepanze e che ci fanno capire che alla fine la Russia un giorno potrebbe benissimo pugnalare le spalle la Serbia quando le farebbe comodo e lì un po' c'è questa ingenuità dei serbi credere che i fratelli russi proteggeranno insomma in realtà come diceva Giorgio ogni stato lo fa per il proprio interesse quindi non ci sono cause perfetto vi ringrazio tutti moltissimo avremo nel prossimo panel l'occasione sicuramente di tornare sulla Bosnia per la passione che alcuni dei relatori successivi hanno rispetto al paese era impossibile coprire tutti gli aspetti però vi ringrazio di avere dato comunque una panoramica molto approfondita e molto interessante a pranzo poi se avrete la forza di fermarvi ci sarà modo di scambiare due parole con i relatori e approfondire quello che vi interessa di più intanto grazie mille vi ringrazio